Leonardo Di Caprio Leonardo Di Caprio, la donna che sposerò dovrà essere ecologista . Bellissimo e talentuoso, Leonardo Di Caprio in questi anni ha fatto strage di cuori, conquistando top model e grandi attrici, tutte travolte dal suo fascino magnetico. . Oltre a dedicarsi ad una beauty routine che gli permette di apparire sempre al massimo della sua forma, Di Caprio è anche un uomo interessante e ricco di passioni, come quella per l'ambiente. . L'attore infatti ha dichiarato che, qualora sentisse il desiderio di sposarsi, la donna dei suoi sogni dovrebbe obbligatoriamente essere un ecologista. L'amore per l'ambiente, Leonardo Di Caprio mette il pianeta al primo posto. . . Dopo numerose relazioni sentimentali interrotti, come quelle con Barre Feli, Gisele Biu con The Eres in the Canneblet e Lively, il bel Leonardo non si è mai perso d'animo, anzi, il suo successo con le donne è sempre assicurato, e spesso e volentieri è lui a dettare le condizioni. . La sua carriera professionale, in particolare dopo la vittoria del premio Oscar come miglior attore protagonista di Ravenant, sta vivendo un momento esplosivo, ma l'attore non perdi occasione per dedicarsi all'ambiente. . La sua passione per l'ecologia è diventata una autentica vocazione, tanto che la star di Hollywood ha finanziato numerosi progetti dedicati alla salvaguardia dell'ambiente. . Per questo motivo, quando pensa ad un ipotetico matrimonio, Di Capri ha sottolineato che la sua donna dei sogni dovrà obbligatoriamente essere un'ecologista convinta. . . Durante un'intervista rilasciata a Io Donna, l'attore ha parlato del suo amore per l'ambiente e della necessità di diffondere in tutto il mondo le informazioni necessarie per comprendere quanto lo stile di vita attuale non sia più sostenibile. . . La sua attenzione verso tutto ciò che riguarda le tematiche relative al rispetto dell'ambiente non è una moda di passaggio, anzi, l'attore ha fatto di questo argomento quasi una seconda professione, diventando uno degli attivisti che investe più denaro in progetti improntati alla sostenibilità. . . Per questo motivo, la donna che dovrebbe stargli vicino per il resto della sua vita, dovrà condividere con lui queste forti motivazioni. . Leonardo Di Caprio, è lui l'attivista più sexy. . Una carriera professionale di enorme successo, lo status di sex symbol e l'amore incondizionato da parte del suo pubblico, Leonardo Di Caprio sembra possedere la ricetta della felicità, ma ha deciso di andare oltre, puntando sempre più in alto. . . Appassionato di sport e arte contemporanea, l'attore ha deciso di fare dell'amore per l'ambiente e un'autentica vocazione, i suoi investimenti economici in numerosi progetti dedicati alla sostenibilità ambientale ne sono una prova concreta. . Tantissimi fan si sono complimentati con l'attore per questa sua sensibilità, indispensabile per sensibilizzare la società su tematiche serie ed importanti. . La star di Hollywood ha deciso di usare la sua popolarità a servizio del pianeta, parlando a cuore aperto durante numerosi eventi di gala, oltre ad essere sexy e bellissimo, Di Caprio sembra un principe azzurro di altri tempi. . . Un uomo generoso e ricco di talenti, sempre pronto a prestare la sua voce per difendere chi si trova in difficoltà, il bel Leonardo è senza dubbio l'attivista più sexy del momento e sono tante le ragazze che sognano un lieto fine con lui. . .